EICMA 2018 siamo allo stand BMW dove per gli amanti delle moto sportive c'è una vera chicca una nuova BMW S1000RR la super sportiva della casa completamente rinnovata guardate che bella con un frontale con un doppio faro simmetrico che quindi cambia decisamente il corso stilistico della super sportiva di Monaco e ovviamente tutta una serie di migliorie che la renderanno sicuramente più veloce e performante a partire dal motore che è di tipo shift cam quindi con fasatura e alzata delle valvole variabile. Parliamo di numeri 207 sono i cavalli 197 kg di peso per la versione standard addirittura 193,5 kg di peso con il pieno di benzina per questa versione qui con tutto il kit sportivo che alleggerisce la moto soprattutto per un particolare che sono fai vedere bene i cerchi in fibra di carbonio. La posizione di guida è carica ma non troppo la S1000RR non perde la connotazione di moto sportiva sì ma tutto sommato comoda per fare tanti turni di pista senza stancarsi troppo così a sensazione il manubrio mi colpisce perché non è larghissimo è piuttosto aperto ma non è largo come su altre moto super sportive di produzione recentissima. Per me è un capolavoro bellissimo a me il design piace tantissimo questa rivoluzione stilistica mi ha colpito tantissimo troviamo ovviamente tutto il meglio dell'elettronica che BMW può montare su una moto a partire dal DTC cioè il controllo di trazione che ti aiuta a fare il tempo e poi riding mode qui abbiamo addirittura il cruise control insomma tutta un pacchetto elettronico di altissimo livello completato da un display tft come sulle sulle altre moto di dell'elica disponibilità e prezzo sui prezzi ancora non si sbottonano si parla però di una cifra attorno ai 19 mila euro come prezzo di partenza la nuova BMW S1000RR 2019 la vedremo nei negozi a primavera fateci sapere che cosa ne pensate di questa meravigliosa super sportiva lasciateci un commento qui sotto seguiteci su tutti i nostri canali social su motorbox.com se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale lasciate un like alla pagina e come al solito al prossimo video ciao